Bella a tutti ragazzi e ragazze, qui è Frank Rockstorm Oggi siamo su FIFA 17 E vi porto il draft Finalmente è tornato Dopo un mese anche che non registravo Ok, vediamo che moduli ci sono usciti Mmm, bella merda Mi sa che il più conveniente è il 352 Ehm, sì, 352 Più conveniente Ronaldo tutta la vita Andiamo direttamente sulle riserve Che lì puoi Vabbè, stavo dicendo può uscire il mondo Però in questo caso è uscita la vera merda Mi prendo lui perché può fare un test Ok, pastore Mertens E' brava Valencia Bena si ha C'è anche tremoline Se chi prendo Bena si ha O Bena ti ha lì Qui guarda Turan Andiamo con i centrocambisti Che bella merda No, sbagliato Dovevo prendere quello della Liga BBVA Ehm, vabbè, dai Ehm, vabbè, dai Prendiamo Chiù di tagliere Qui voglio un bail Bellissimo Bellissimo Ehm, questo bail Ok, sterling che corre Ehm, questa è la parte più fondamentale Dai, infatti, è proprio un cazzo Almeno un 88 godini me lo può dare Sto cazzo Sto cazzo Cerchiamo di costruirci anzi una BPL in difesa Oh, Under Firelight Perini, Schmerz Oh, Art Però, senta tutto il Manchester Vero Dimenticato Ehm, prendiamo Perini che è buggato, va Ce l'ha anche squadra della Divisone 7 Sur le Promise Buono, buono Baby Beh, sarà Ma che merda, eh Oh, Fabregas Rodriguez Eh, prendo Rodriguez I canzi Find this Dai E qua c'è la merda Oh Oh Volpi o Varas Volpi Difensore Laporte Wow Philippe Lam Terzino destro Eh, Lam lo potrei mettere al posto dell'esterno Bene Allenatore Tutti argento Ma non è male Eh, dai Prendiamo lui Vediamo Adesso andrò a migliorare la squadra Questa cosa uscirà Questa cosa uscirà Proprio Dai, perini lo lascio Dai, perini lo lascio Dai, anzi un pochettino di indesano l'abbiamo fatta 84 di valutazione E 81 di indesano Buono Ecco Mettiamo lui Bene ragazzi Per questo draft è tutto Ora vi faccio vedere pure la mia squadra Con questa sono riuscito ad arrivare in divisione 7 Eh, questa Eh, vabbè Se mi fa entrare Ok, questa è la mia squadra